Musica Chio cosa ti ha trasmesso la passione per la moto e quando? Ma sinceramente sono appassionato più o meno prima elementare e me l'ha trasmesso anche mio papà che comunque anche da giovane andava in moto abbastanza, quindi anche lui mi ha trasmesso questa passione. Poi adesso con il primo scooter mi sono appassionato ancora di più e cerco di vendere 125 adesso. Mi sono sempre piaciuto il moto anche perché mio papà quando era più piccolo faceva motocross e adesso ho lo scooter e quindi mi sono appassionato, l'ho modificato un po' così e lo uso tanto, mi piaceva vedere le moto anche qua, sono venuto apposta proprio per vederle. Da quando ero piccolo guardavo sempre le moto della tv e guardando un po' alla volta, sempre crescendo mi è sempre più piaciuto il mondo delle moto, così adesso che sono grande riesco a venire anche nelle fiere. Beh, fin da piccolina guardavo MotoGP, Superbike, Motocross e mi sono sempre appassionata, comunque mi piacerebbe avere la moto, la più grande insomma. Da quando ho sei anni per la moto, una passione così, non lo so come dire, la moto. Ah, mio papà è un motociclista da più di 30 anni, quindi penso lui. Io ho sempre avuto la passione per le moto, perché mio padre era meccanico di moto. Ma già da giovane, io già in me, mi è sempre piaciuto e niente, ho proseguito tutti questi anni, anche guardando fiere e tutto, seguendo la tv, tutto così. E quali sono le cose che ti sono piaciute di più di questa fiera ECMA? Ma adesso devo ancora girare un po' tutta, comunque la prima impressione che mi hai dato è molto bella, comunque tante moto, sinceramente un'ottima occasione per divertirsi e appunto informarsi su prezzi, accessori appunto per le moto. Ma mi è piaciuto molto lo spettacolo di motocross fuori e soprattutto anche le moto KTM, tutte queste, le moto da cross soprattutto. Come moto mi piace molto la BMW, poi la Ducati, anche la Honda, le altre un po' meno, però dai, come fiera è molto carina ecco. Intanto complimenti perché è veramente una bellissima fiera, ma un po' tutto comunque, gli stand sono organizzati bene, sempre più grandi. Tranne le moto? Niente, solo le moto. Ma credo, non lo so, adesso gli spettacoli fuori, poi non so, tutti gli stand sono tutti belli, moto, tutto. Ma è la prima volta che vengo perché io vengo dalla Svizzera, dopo sto guardando un po' tutto, no? E mi piacciono, io ho un'onda 125, vorrei comprarne una più grande, guardo qua. Tutto, diciamo tutto, rispetto anche agli altri anni è più, molto, diciamo c'è molte, molte cose, molte cose nuove, anche cose belle. E faticoso, a giorno d'oggi, mantenere una moto? Adesso, mantenere una moto, sinceramente non lo so, perché è mio padre che si occupa di queste cose, però non credo che sia facile, bisogna avere anche un po' di voglia. Sì, abbastanza, comunque soprattutto i costi della benzina, i pezzi sono molto aumentati come costo. Beh, io non ne ho molto, però penso che abbastanza, come andiamo avanti non è tanto facile a mantenerla, insomma, ecco. Beh, sicuramente sì, comunque costano molto, infatti più delle volte magari si prendono usate le moto, e comunque anche la benzina è sempre più cara, l'assicurazione. No, per un appassionato no mai, un appassionato di moto mai. Abbastanza, sì, tra macchina e moto, essendo che c'è più esigenza della macchina, e la moto comunque è una cosa in più, sì, molto, soprattutto per le assicurazioni. No, dipende, certo che se uno ha una macchina, magari dopo devo avere anche i soldi per la moto. Eh, diciamo di sì, rispetto a 20 anni fa, 15 anni fa, quando erano le prime, sì, sicuramente sì, quali più. Grazie.